è morto oggi il famoso attore Enzo Garinei aveva 96 anni nella sua carriera recitato in ben 70 film e ha calcato anche i palchi teatrali insieme al fratello di quest'ultimo ha interpretato testi come aggiunge un posto a tavola cielo mio marito e alleluia brava gente ha recitato immemorabili film come il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto e chi trova un amico trova un tesoro con bud spencer e Terence Hill come doppiatore è stato anche la voce di San Laurel Staglio in alcuni film e comiche